Benvenuti amici, io sono Salopimpost, oggi siamo su Barbershop, una specie di ink in company però anziché fare tatuaggi andiamo a tagliare i capelli ragazzi Guardate qui, abbiamo una serie di macchinette da sbloccare, non solo macchinette ma anche oggetti, quindi per fare la barba, sapone, oggetti per il sapone, dye tools e quindi macchinette Poi abbiamo quindi una serie di clienti, ognuno di essi avrà una specifica richiesta, di capelli ovviamente Va bene, andiamo, vediamo che cosa ne esce fuori, che vuoi? Ah vuoi proprio la tagliata a metà, e te la faccio Ecco qua, ti taglio tutti, ma l'altro dove? Non c'avevo in questo gioco Tagliamo tutti i capelli, fatto, fatto, quanto vi date? 20 monete Ti è piaciuto? Gli è piaciuto, ok, collezione per 5, no, no, grazie, va bene così L'audio non esiste in questo gioco, nel 2020 ancora fanno giochi senza audio, non me lo spiego Va bene, next, ok, tap to start, tizia come li vuoi, i tuoi capelli Ah, ti devo togliere proprio tutta la corona, e via di corona, ti faccio vedere io, fatto Precisa, identica, e dammi 20 monete, ok, e questa è contenta Ok, no, no, tranquilla, 5 per 5 non lo voglio, avanti su, un'altra chiave a me E quindi con un'altra chiave apriamo una chest, forza Andiamo, questa, chi è questa? Ciao tu stai, ciao tizia, hai capelli un po' troppo strani Adesso ci penso io, ci pensa, salvo Pimpus a tagliarti tutti i capelli nel miglior modo possibile Via, ok, e fin qua è facile, 20 monete a me Eh, no thanks, va bene, abbiamo una chiave, forza apriamoci sta chest, vediamo che sblocchiamo Che mi date? Apri la chest, al cuore, ho fatto il cuore, io volevo aprire la chest veramente Vabbè, facciamolo prima, aspetta, non ti muovere però, perché se ti muovi giustamente Ok, aspetta qua sopra Ok, il cuore ti sta preciso Ok, una moneta si è fregato, sta faccia di capo No thanks Io avevo una cassa da, oh c'è strumento, perfetto Un a caso, apriamo tre chest, 30 monete, 10 monete È un tizio qua, abbiamo sbloccato un nuovo tizio Selezioniamolo qua, vediamo com'è Ciao tizio, che sei un ninja tu sei, che hai un gatto sopra la testa, fammi capire Come lo vuoi, tagliamo il gatto, ti lascio la cresta centrale, e via Via, con più velocità, non ti muovere però Seleziona il colore, come li vuoi, verdi, li vuoi rosa, aspetta un attimo Ecco qua, perfetto, grande così Pure il colore, pure la lacca colorata Ok, no grazie, non gli voglio 5 monete Ok, una chiave, va bene Free model, guardando un video No, la connessione è disattivata Avanti, andiamo alla prossima, tools, aspetta un attimo Che ho sbloccato Ah, possiamo sbloccarlo qua, per 130 E vediamo Che mi date Un'altra macchinetta Che è con una sega Usiamo la sega per tagliare i capelli Meglio così, almeno le cose verranno un po' più precise Ok Adesso, non abbiamo più indicazioni qua Aspetta un attimo Via che con la motosega ti faccio affettire Le orecchie ce le ho ancora un po' sopra Bene, bene, fatto Guardali che precisione che ho con la motosega 40 monete Ok E andiamo avanti, forza Un'altra chiave a me E siamo a due Andiamo al prossimo Forza, ciao tizio Allora, come li vuoi? Rotondi Come un uovo E te li faccio rotondi Guardali In mezzo secondo Facciamo un taglio di capelli Fosse veramente così Forza Avanti Datemi sta monete Un'altra chiave a me E siamo a tre Però dobbiamo fare un altro taglio Che cos'è? Che cos'è? Un mega puffo Via Mamma mia che taglio che vuoi però Aspetta un attimo che devo capire come andarci Via Via Ok Un altro pochino qua Mamma Gli asfalta tutti i capelli Dai, tagli Che è? Come li vuoi? Rosa? E te li faccio rosa Pure gli occhi ti dipingo Chi se ne frega Ok, fatto Ti sta Ma che cosa? Da un mega puffo si è diventato Non so che cosa Non penso 50 monete Ok Possiamo sbloccarsi Tre chest Due e tre Che mi dà solo monete Meglio così 199 Possiamo aprirci Qua un altro customer Si Sblocchiamolo Che il ninja già mi ha rotto le scatole Che sei carina tizia Ti seleziono Mamma mia Che ti è successo ai capelli? Step to start No ma come te Com'è che te li faccio così? Fammi capire Tutte spunto Via Tutte spuntonate Chi se ne frega E basta che passi va la macchinetta Comunque Ma eh L'ho resa calva proprio Che schifo Scusami tizia Ma ci sono andato un po' troppo aggressivo Lo capisco L'ho resa calva Comunque la chiave me la danno Meglio così Ma che cos'è Ma che cos'è sta roba qua? Ma che vuoi fatta per la barba? Aspetta vecchio adesso Ti Va bene Ti devo fare la barba pure Ok Ti insapono Ma non eri femmina tu? Che ti è successo? Aspetta un attimo Non ho finito di passare il sapone Alla metta Ok Sei precisa Ma la donna barbuta Sempre piaciuta Andiamo al prossimo Un'altra chiave a me Tizia Che cosa vuoi fatto? Una tigre Si passa dai gatti Alle tigri Aspetta che ci penso io A farti così adesso Taglio qua Taglio qua Taglio qua E taglio qua Oh Un altro pochino qua Precisa La tigre E' rimasta tigre Ok 20 monete Perfetto E siamo a 121 Un'altra chiave a me Avanti Andiamo al prossimo Come li vuoi così? E te li faccio così Aspetta un attimo Non avere fretta Taglio qua Ah perché si intravede comunque Il disegno che vogliono loro Nella massa di capelli Si intravede Quello che dobbiamo fare Ok 20 monete a me Totale 141 Possiamo comprare qualcosa Con 141 Intanto mi apro tre ceste Solo monete 206 Possiamo sbloccare Niente 260 Andiamo a fare un altro taglio Forse E' un albero di Natale in testa E infatti vuole l'albero di Natale Aspetta che qua non si Non ti muovere però Non ti muovere Dai Ma se ti muovi Che vuole la mia vita? Se ti muovi Non ti muovere tu Ti faccio vedere che non ti faccio male Se tu ti muovi Ok così Così Non ti muovere Non ti muovere Ti ho detto Se ti muovi Ti faccio male Aspetta Ok La barba C'è la barba Ok Dov'è? Metti Metti il sapone Non lo risparmiare Che costa poco il sapone Ecco qua Perfetto Preciso identico 17 monete Perché si è un po' Stolta la testa Non è che è colpa Se si muove Ok Datemi 223 Altra chiavetta E andiamo al prossimo Avanti Questo è un po' più normale Dai Su Un po' più normale Aspetta perché ti taglio pure la testa Se ti muovi Meglio che non ti muovi Ok Aspetta Non è che si vede tanto Poverdo Ok questo qua Questo qua Va bene così? Come li vuoi? Ancora un altro pochino Ok Te li vuoi arancioni E te li faccio arancioni Te li faccio color Color tigre E stavolta 20 monete Va bene Più dying 10 Ok Siamo a 243 Un'altra chiavetta No thanks Ma come che mi fate crescere Sta barba Voi femminucce Fatemi capire Allora Qua ha tagliato tutto Così Non ti muovere la testa Che te la taglio E' questo così Ok Non ti muove la testa Capisco Mamma mia L'orecchio gli è partito E ma non ci posso fare niente Se vi muovete Ok te li faccio Tutti azzurri Pure la barba azzurra Ti faccio Aspetta un attimo Perché te la taglio invece Ecco qua Precisa Arrasata Liscia Come il culetto Di un bambino Ok 34 monete a mano E siamo a 257 Ultima chiave Ehm Va bene Forza Ehm Che avevo fatto Questo l'avevo già fatto Comunque Siamo a livello 16 Aspetta un attimo Che ti asfalto Tutta la testolina Ti piace? Ok Taglionetto Gli piace 20 monete Ok Siamo a 277 Ehm Vediamo che possiamo fare qua Best world Possiamo trovare lui Però non l'abbiamo trovato Allora Vediamo di comprare qualcosa Possiamo comprare un nuovo customers Oppure un nuovo strumento Ehm Sì Cambiamo macchinetta Perché già la motosega Mi ha rotto le scatole Vediamo che abbiamo Vediamo che abbiamo Vediamo No vabbè Che è Che è la smerigliatrice Ma ci andiamo di smerigliatrice Ecco qua Ci andiamo così Di ne Taglionetto Facciamo un taglionetto E' meglio di così Ok Ragazzi Il gioco troppo figo A parte l'audio Che non esiste Purtroppo Però Il gioco divertentissimo Quindi fatemi sapere Sempre nei commenti Se volete Altri episodi Vi ricordo che Come potete seguire Manco salve C'è facebook Tutte Siamo tutti I social Di cui trovate Link in descrizione Iscrivete al canale E perciò E perciò E perciò A prossimo video Oggi torniamo Su Scary Teacher Allora Andiamo a continuare La nostra bellissima missione Qua Di rompere le scatole Alla maestra Allora Siamo al capitolo 1 Sì L'ultima volta dovevamo Ecco Recuperare il pin In molti Avete detto La posizione La posizione Di rompere le scatole